Leggiamo questo biglietto e mostro che cosa mi è uscito del pacco che mi è arrivato ora Seguitemi, quando vedete, fatti bravi, non fatti scemi Scrivetevi al canale, attraverete campanella, bella a tutti i ragazzi, un like e seguitemi C'è scritto un messaggio d'aguri da Samuele Corsino Ciao Enrico, ti saluto, sono un tuo fan, grandissimo fan Guardo tutti i tuoi video, ti prego fai un video dove mi saluti Spero che con questo regalo puoi rinfrescarti in queste calde giornate Ciao, un abbraccio da Samuele Corsino Ciao Samuele Corsino, mostramo la bottiglia del tè fresco fresco al limone Andiamo? Questi regali sono belli Eccola qua la bottiglia Il tè Santa Benedetto Acqua minerale naturale Limone Il tè al limone E' buono Che dite? Ora sta caricando il primo video, vi mostro il pacco, quello che mi è arrivato E l'ho aperto E mi è uscito questa bottiglia del tè al limone E' buono E' grazie a Samuele E' così la, quella persona là Aspettate E' 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 Metto La poso Du frigo Così è fresca fresca Che fa cadda assai E niente Vado a fare quell'altro video Ciao raga Grazie Qua sotto trovate la lista di Amazon Andate tutti E scegliete quelle che cose che volete E me le mandate E io le apro O i cosi della storia O i video lunghi Ok Andiamo Seguitemi E qua sotto c'è il link di Amazon Andate dai Fate i bravi Vi voglio bene Grazie Samuele Chiudo Buongiorno